Quindi questo sono io, come avete già preannunciato l'origine, un po' il mio cuore parte dal Linux User Group della Bocconi, dove ho conosciuto Sebastiano nel 2003 o qualcosa del genere e lui ci ha detto dovete usare Linux, abbiamo fatto la lezione di Linux ai Bocconiani, è stata delle esperienze formanti un po' delle esperienze mistiche direi anche, la prima Ubuntu che adesso c'è, non so, la 20, qualcosa che era 0-4, 0-4, 0-4-10, la prima con il lettore CB. Non che direi un aneddoto, anche quella volta che praticamente ci erano dato una saletta all'interno dell'Istituto di Organizzazione dei Sistenti Informativi e smanettando la sera, trovandoci in qualche maniera, abbiamo preso il computer della saletta come computer di prove e abbiamo bruciato una tesi di ricerca di un ricercatore. Abbiamo preso l'MBR, abbiamo sovrascritto l'MBR di un ricercatore, poi l'abbiamo recuperato con test disk, è stato tutto bene, l'ho dovuto rifare qualche altra volta, ma va bene. Quindi quelle sono diventate forse più cauti io personalmente nel mio crescere, però sono ancora abbastanza smanettone. Dopo, diciamo, l'esperienza a Bocconia, ho lavorato per Sunset Management Agency a Milano per qualche anno, un paio d'anni, e loro fanno advertising online dall'epoca, insomma, sì, degli sms, di quelle cose là. L'anno 2008 in cui ho tradotto Facebook in italiano è stato quel po' il momento dove, diciamo, Facebook è partito e le API si sono, diciamo, iniziate a usare anche da, sì, per lo sviluppatore come me, che ha detto, ai ragazzi c'è questo fantastico tool e tutti i clienti di Samet e Samberg gli sono piaciuti un sacco e quindi, sì, mi sono fatto un po' le ossa con Ruby e le API di Facebook, però ho avuto l'opportunità di, in qualche modo, nel 2010 partire e venire qua a Hong Kong mantenendo il mio lavoro, quindi ho fatto un po' questo salto così nell'Asia perché comunque c'era stato durante lo scambio di università ma è stata comunque un'ottima scelta, insomma, ho trovato un po' la comunità qui, non so, con gli amici, di persone, un ambiente vibrante. Un punto importante di questi dieci anni è stato il mio master qui al Politecnico dove, sì, nel 2014, il master è in Multimedia Entertainment Technology, quindi videogames, apps, tutto quello che, diciamo, viene da quella, da quella stream live. C'è stato un po' il mio primo incontro anche con la, diciamo, la maker community, prima io ero molto solo software, io, sì, sono con la mente sempre per aria, però mi hanno dato un saldatore in mano, io ho sempre paura di bruciare tutto, però prima o poi, insomma, qualcuno mi ha detto vai, fallo, chi se ne frega, insomma, ho perso, ho perso, ho rotto il ghiaccio, è diventato poi poi una passione perché è Arduino, perché poi ho iniziato a insegnare qui all'università e alla fine insegno quelle cose lì, quindi è stato, insomma, un incontro con una realtà dove, cioè, Massimo Banzi, è venuto qua a fare anche dei doc, quindi, insomma, l'ambiente maker qui a Hong Kong ci sono, poi, vabbè, Shenzhen è qui dietro l'angolo, quindi anche quella, una base di tutti i makerspace. Quanto ci metti ad arrivare a Shenzhen? A metropolitana, a 45 minuti, cioè, praticamente... Quindi è proprio, a un cosiddetto tiro di schiocco, no? Come si dice? Arrivato a San Donau, guarda. Sì, quindi da settembre ho iniziato il dottorato qui, e il mio, diciamo, il mio argomento, della mia tesi è la creatività artificiale computazionale, quindi come usiamo, come facciamo usare reti anorali, piuttosto che algoritmi genetici, eccetera, per creare arte, musica, letteratura, eccetera, quindi, insomma, questo è un po' il mio lavoro, tra virgolette. Però oggi qui sono voluto parlarvi di un progetto che ho seguito insieme, e ho avuto il piacere di collaborare con alcune persone, forse Mario, anche qui, che ci ascolta, e anche Luisa, ma questo è un progetto di squadra, e, diciamo, parte da una scoperta, insomma, che per me all'epoca era una scoperta, in realtà, l'ambistonico esiste dal 1980. Scusa Giovanni, mettiti più al centro, perché sennò con il nostro famoso bollino non ti continuiamo. Adesso no, non so che cosa stascia. Quindi, l'ambistonico che cos'è? Fondamentalmente l'ambistonico è una modalità di fare l'encoding dell'audio tridimensionale, quindi se ne immaginiamo, ok, prima del 1930 c'era il mono, c'era un solo unico segnale, che era la musica, il gramofono, quello che è. Poi è invitato allo stereo, c'è la sinistra, c'è la destra, però, in realtà, nella nostra esperienza di vita, il suono viene da tutte le direzioni, quindi il modo, diciamo, di visualizzare un'onda nello spazio è come una sfera, e quindi da ogni direzione può provenire un'onda. E come fare l'encoding di queste informazioni? Alla fine è stato un problema che è stato risolto ancora nel 1980 con il formato ambisonico, B-format chiamato. E qual è il vantaggio? Che fare, diciamo, registrare l'audio in questa modalità lo rende, chiaramente, completo nel suo formato, ma puoi fare la riproduzione di questo formato in qualunque set di speaker. Quindi se io ho uno stereo, per carità, avrò uno stereo, però se ho 15, 20, 30 speaker, io posso prendere questa immagine, questa rappresentazione dell'ambiente audio e farne il playback su un numero arbitrario di speaker. Arbitrario, diciamo, c'è un limite di risoluzione minimo che è, sono 4 speaker per il piano, però ovviamente questo può scalare fino a un cerchio da 15 metri con 30 speaker, quindi non c'è un limite vero e proprio al numero di speaker verso l'alto, c'è solo un minimo. E quindi, ovviamente, più speaker ci sono, più la risoluzione, più l'effetto è, diciamo, preciso. Il problema è che qui siamo scontrati con questo nuovo studente del master dell'anno successivo al mio, due anni in dato mio, che anche lui era interessato a questo tema e non ci sono effettivamente modi facili per creare questi sistemi multi speaker, quindi con un numero elevato di speaker e ovviamente io ho smanettone e dico ma, cioè, in qualche modo forse ci riesciamo. Mi sono inventato qualche accrocchio che vi farò vedere successivamente. Comunque, diciamo, la spinta nasce dal voler creare un sistema facile da, o anche low cost, per avere l'esperienza di questo suono tridimensionale con un numero di speaker n maggiore di 10. Sì, da notare, ecco, questa è, diciamo, un po' la struttura dell'ambisonico, quindi, cioè, la prima palla in alto rappresenta il mono, cioè il segnale individuale, poi ci sono le tre direzioni cartesiane, nasce a sinistra, sopra, sotto, avanti e indietro, e poi ci sono delle armoniche, queste sono armoniche sferiche, anche chi ne sa di fisica, queste sono anche gli orbitali degli elettroni sugli atomi, quindi c'è un po' di matematica dietro, però fondamentalmente più speaker ho, più onde fondamentali riesco a riprodurre, e quindi questo è un po' l'idea di avere tanti speaker. Il team è composto da Mario, Mario Babio, che dovrebbe seguirci forse da Twitch, magari se so scrivere qualcosa, domande Mario, vai pure, io, e Timothy è un ragazzo tedesco, che era qui quando, diciamo, in un periodo dopo Mario, che, insomma, stava facendo uno scambio, e lui sa ne ho voglia. Come l'abbiamo fatto? Sono molto bravanti. Come l'abbiamo fatto? Dunque, il primo tool fondamentale è Jack, che non so se l'avete mai usato, sentito, visto, in tutte le distribuzioni di Linux, di solito compare Jack, come pacchetto, e già che fondamentalmente è un server audio, che permette a varie applicazioni, di passarsi audio in tempo reale, ad A, e da questo Jack, ha una funzione per passare in tempo reale, via Ethernet, quindi usando una connessione IP tradizionale. Usa multicast, quindi è molto efficiente, quindi distribuisce, manda tutti i canali e dappertutto. Octave è, vabbè, l'equivalente di MATLAB, che serve per creare il decoder, quindi fondamentalmente è una corrispondenza tra la posizione dello speaker, e che cosa quello speaker deve di fatto riprodurre, perché se lo speaker è davanti, dovrà riprodurre il canale davanti, se lo speaker è dietro, dovrà appunto riprodurre il canale dietro, quindi di fatto è una matrice di coefficienti, di che cosa va a finire effettivamente negli speaker. Questo lo posso far vedere dopo che cosa fa. Tramite Faust crea questo decoder, che quindi prende il segnale ambisonico e lo stampa o lo riproduce sullo speaker specifico in base alla posizione che ha rispetto al centro della sala o comunque dello spazio. Altri tool che ovviamente poi si possono usare per creare contenuto oppure fare play del contenuto sono SuperCollider, anche questo è un ottimo tool open source, che è questo più, diciamo, programmatico, oppure soluzioni commerciali come MaxMSP, AbletoOnline, che comunque sono integrabili con Jack, perché di fatto Jack è solo 10 minuti, semplicemente una scheda audio virtuale. Dal punto di vista hardware lo potete vedere anche forse dall'altra telecamera, non so se questa è condivisa, ma a massimo faccio un giro dopo. Sono 32 speaker che abbiamo prescogli da macchina, penso proprio forse meno di 10 euro. I Raspberry Pi, che è l'endpoint della connessione IP che riceve il segnale e sopra il Raspberry Pi abbiamo attaccato un hat che ha un DSE, quindi trasforma il segnale digitale e il segnale analogico, e integrato un amplificatore classe D, quindi molto efficiente, non consuma tanto, non è insomma il suono migliore del mondo, però con 50 euro diciamo riesco a dare corrente a 4 speaker e avere due canali. Ovviamente più Raspberry Pi abbiamo, più canali abbiamo, di fatto è, cioè si scala fino a che la rete non esplode, con il gigabit probabilmente si riesca a fare un sacco di canali. con il concentro con il fast ethernet che è limitato in qualche modo, è Raspberry Pi, 32 canali sono andato benissimo, penso che... E l'altro elemento è, io l'ho chiamato il poor man's power over ethernet, vabbè ci sono le foto, ve lo faccio vedere nel dettaglio. Questo è il risultato finale della prima interazione che abbiamo avuto. Questa è una struttura, non è un solido pitagorico, è un cubottaedro troncato, so che voi vi state facendo, c'è qualcuno che sta facendo le tessellazioni della sfera, eccetera, e la particolarità di questa forma è che ogni giunto, ogni angolo ha la stessa, diciamo, la stessa forma. Quindi c'è sempre un quadrato e un esagono e quindi Mario, che è il nostro fantastico designer triestino, ha disegnato questo giunto, quindi questo che vedete in alta destra, e l'abbiamo stampato 3D in Cina, per credo 15-20 euro al pezzo, è una plastica un po' dura, anche se poi vedete sulla destra qua ci sono gli sfaghi, perché non stava proprio benissimo. Però insomma, ed ogni, ognuna di quelle scatole ha dentro un Raspberry Pi, questo è il Raspberry Pi con l'amplificatore LDAC, quello spinotto tranquillo, 3,5 pollici, e le scatole le abbiamo stampate a laser 3D, con questi sono gli speaker da macchina, questa era la prima versione, qua siamo noi che costruiamo come degli assassini, qui vedete chilometri di cavi Ethernet, perché di fatto l'Ethernet, i cavi Ethernet portano un po' di dati e un po' della corrente, quindi all'epoca avevamo dei vecchi power supply dei computer, forse ci sono delle foto. Questa è la seconda versione, quindi ci siamo accorti in qualche modo che quella versione prima era troppo piccola, cioè ci poteva stare solamente una persona, e quindi abbiamo detto, beh, cerchiamo di trovare una forma che ci permette di avere più spazio in mezzo, così più persone riescono ad essere all'interno, e questa è un po' l'idea che ci è venuta con questi otto totem, con quattro speaker ciascuno, quindi abbiamo attorno al centro una buona distribuzione. E il meccanismo è lo stesso, quindi abbiamo semplicemente smontato il Raspberry Pi e rimontati, avendo costruito la struttura di legno con questi metodi, qua è molto facile in realtà anche perché a Hong Kong ci sono un sacco di negozi, poi sono tutti nello stesso posto, quindi se ti servono viti, cavi, vai lì, fai la spesa e torna indietro. Ecco, questo è anche quello che ho chiamato il poor man's power over ethernet, quindi ho trovato questi connettori a forse meno di un euro, su Taobao, che è stato fantastico sito cinese, dove io non so leggere ovviamente, ma quando solo per immagini mi arrivano le cose, infatti sono sbagliate, ma va bene, questo è quando siamo andati al Sonar, quindi tutto questo progetto è nato perché tramite l'università abbiamo avuto l'opportunità di poter portare qualcosa a Sonar Hong Kong, Sonar è questo festival che è nativo di Barcellona, che ha tutta una tradizione sulla tecnologia, multimedia, il suono, perché c'è un festival di fianco, ma c'è di fianco una specie di conferenza, quindi questo è il suo nome, questo è il suo nome, Sonar Plus D, e abbiamo portato questi due sub, i nostri totem, e poi abbiamo questo centro di controllo e la gente in mezzo poi ballava, e usufruiva dei contenuti che abbiamo sviluppato. tramite gli studenti di quell'anno abbiamo prodotto i contenuti per questa piattaforma, quindi c'è un gioco, loro hanno creato un gioco che presupponeva di fatto di essere vendati, quindi non avere nessun input visivo e tutte le interazioni avvenivano tramite il suono e non so se si vedono, ma qui in alto, eccolo qui, in alto a questo totem c'è il tracker del Vive, di un HTC Vive, e usavamo i controller solamente del Vive per questo gioco praticamente dove bisognava ammazzare un mostro nella direzione giusta, fondamentalmente, però senza poterlo vedere, quindi usavamo solamente il suono e la direzionalità del suono, quella è stata un'esperienza che molta gente ha provato e si è divertita. Questo è stato un altro, diciamo, l'abbiamo pensato un po' a modulare perché volevano avere la possibilità di poterlo portare in giro e diciamo anche da smontato, rimontarlo, e quindi la versatilità un po' di questo sistema che ti prendi 4 Raspberry Pi e degli speaker e poi li metti più o meno dove cacchio ti pare. questa è una storia di queste, abbiamo usato meno speaker, quindi qui ci sono solamente, mi pare, 8, ecco lì lì. Ecco, questa è la... l'abbiamo rubato da un computer qua, che comunque è e-waste, quindi cerchiamo di usare i componenti meno costosi possibile. E questo è un po' il setup, diciamo, di base e dopo ognuno di questi è la sua ripa in realtà sta vicino ai suoi speaker e ai potenti suoi speaker. Il vantaggio qual è? Che poi, all'interno di qualunque spazio che posso mettere gli speaker qui e lì, poi creo il mio decoder, quindi creo a partire dalle posizioni degli speaker il mio, diciamo, si chiama decoder, quindi prendo l'ambisonico e genero i singoli segnali per ogni singolo speaker a partire da quel formato che è sempre lo stesso. E sì, questo l'abbiamo fatto per una mostra e questi sono altri esempi di come abbiamo cercato di riutilizzare un po' i pezzi. Questa è un'installazione che ha finito a Burning Man l'anno scorso, anche se poi mi sa che non hanno usato gli speaker, però avevano usato, diciamo, su questo piccolo modello il nostro sistema. E questo invece era un ibrido con delle altre casse e un subwoofer che avevo trovato lì per un'altra conferenza dove hanno fatto una sessione dove si ballava, dove si facevano tutte le cose un po' particolari, però sono, diciamo, solo per mostrare che questo sistema è abbastanza flessibile e l'abbiamo pensato un po' dalla partenza qui. Posso farvi vedere qualche cosa interessante adesso sul mio schermo se lo vedete. Questo è il mio schermo adesso, sono un po' piccolo, però questo è come si presenta l'interfaccia, posso fare zoom, come si presenta l'interfaccia di Jack o QJack CTL, come si chiama l'interfaccia che controlla questo, che controlla Jack, che è, questa è l'ultima versione, non è difficile a trovare, l'ultima versione probabilmente è più facile compilarsela da sé, anche se ci vogliono un sacco di QT e un sacco di menate, però penso che stiano cercando di razionalizzare il processo di release delle nuove versioni di Jack, quindi spero che sia più facile da ottenere nel futuro. All'unico, qui abbiamo, posso spiegare brevemente qui a sinistra, il primo è il sistema, quindi questo è diciamo un'interfaccia aggregata di tutti i miei diciamo dei device che ci sono qui, però la magia in qualche modo la fanno questi blocchi qui, questi sono i blocchi compilati come detto con Faust che trasformano il segnale ambisonico, quindi questi 16 canali che vedete qui sono un formato ambisonico, poi ho 16 canali che invece sono specifici delle posizioni di ogni speaker e questo oggetto di fatto trasforma un formato che è il formato B format in A format che è il formato che dipende di fatto da dove sono le sorgenti mentre il formato ambisonico è indipendente. E qui a destra eccoli qua vedete gli otto totem, quindi il totem non è altro che un raspberry pi su quale gira non so se si legge o se è piccolo questo su quale gira io ho usato ARK Linux ARM che è la versione di ARK per ARM perché sì perché mi piace ARK non so perché però ARK ha sempre le versione più nuove e mi dà meno problemi di Ubuntu quindi ho usato questo però di fatto non c'è credo fondamentalmente nessuna differenza tra usare Raspbian o qualunque altro distribuzione è importante che ci sia Jack dentro e su questo particolare abbiamo usato Jack con Dbus quindi l'interfaccia Dbus e ci sono pochissimi comandi Jack LSP ci fa vedere quali sono le sorgenti in questo momento o le sorgenti ai canali di Jack quindi è un po' l'equivalente di questa best grafica io posso vedere che cosa posso collegare posso anche vedere che cosa è già collegato qui non è collegato a niente c'è comunque quello che collega Jack Connect e poi gli devo dare il nome Catch è la sorgente del suono e Playback è effettivamente lo speaker quindi si deve collegare queste sono tutte cose che di fatto sono in uno sono nello script di inizializzazione del sistema quindi li ho poi messi dentro il system D partono automaticamente ogni volta che io accendo il sistema i dorsi si connettono e diciamo che è un po' abbastanza risolto il problema quindi dal punto di vista del sistema operativo dove poi noi generiamo l'audio è completamente invisibile tutta questa parte nel momento in cui entra su Jack Jack si preoccupa di far passare tutto tramite il decoder e mandarlo ai vari client un altro esempio che posso far vedere lo stop quando appena lo stop questo dovrebbe scomparire eccolo qua l'uno è scomparso adesso posso farlo ripartire quindi insomma di fatto così è forse è troppo semplice spiegato ci sono un po' di complicazioni però se avete bisogno di cose di presentazione me lo potete chiedere l'ultima cosa che posso far vedere qui è questo è il file di Octave o Matlab o quello che è dove si specifico le posizioni degli speaker come potete vedere io questa è la versione a 32 canali quindi ogni totem quindi sul totem a posizione dei gradi zero il raggio è sempre lo stesso perché è un cerchio l'altezza è calcolata in funzione perché è un cilindro e quindi è una posizione dello speaker all'interno del totem e poi ovviamente andiamo a 45 gradi 90 gradi 135 eccetera perché arriviamo a 8 una volta che questo smaccina gli devo specificare poi il file eccetera eccetera però di fatto quello che genera è un file di Paus che è questo non so se esattamente quello che sto usando quello che potete vedere però di fatto qui lui ha una serie di canali di input che sono i canali diciamo dell'ambisonico di formato di ordine 3 quindi fino alla quarta riga di quell'immagine con tutte le sfere che abbiamo visto all'inizio e questi sono gli speaker in output quindi sono tutti i 32 speaker e poi questa è la matrice che ha generato tutto questo che non neanche guardate ma insomma vi fido e poi da questo di fatto mi viene fuori tramite Faust un eseguibile che posso lanciare infatti qui potete vedere questo è uno script semplicissimo che semplicemente fa partire tutti questi componenti di Faust che si connettono a Jack e mi compagnano qua e io poi li connetto e loro fanno quello che devono fare quindi questo è un po' diciamo come funziona poi se ci sono domande specifiche riguardo a questo se no io avrei un'altra piccola chicca per gli ultimi 15 minuti a meno che Seba non so se vuoi no passiamo passiamo alla chicca perché mi sembra che potrebbe occupare anche più di 15 minuti quindi non vorrei togliere tempo alla seconda storia va bene la seconda storia parte 2018 mi faccio vedere questo video prima di tutto non so se si sente l'audio sembra che ho già fatto in modo che l'audio si senta io lo sento l'audio ma non so se poi su Twitch si sente credo questo è Will Smith being here with you in the Cayman Islands I gotta say amata un po' lui che si sente troppo troppo poco te non so quanti di voi abbiano sentito parlare di questo robo umanoide in giro per il mondo è stato credo il David Letterman Show è stato qualcuno se dai lì ma fatti un po' l'audio di Will Smith perché non si sente quello che dice possiamo anche mutarlo ok volete guardarvelo guardate no ma tanto ci sono i sottotitoli quindi ecco qua se lo vedete qui a sinistra la faccia se la riconoscete ma quella poi siamo noi che lo montiamo eccolo qua mi piacerà che un po' di donne c'è un altro frame dove si vede la mia barba ma vabbè quindi spoiler ormai quanto sai quello vestito tutto bene perché io mi sono guardato il video c'è la prima eccolo qua ecco quindi questo sei tu sì ecco la barbetta si vede che smontiamo questa roba ma in quel momento te la stai facendo il montaggio della questo è un po' diciamo il camion che ho fatto dopo diciamo la fine del video lui fa vedere un po' dietro le scene come l'abbiamo montata come l'abbiamo portata e quindi insomma sono finito dentro è stato un ottimo un ottimo caso non video non so quante più usa questo video ecco sono arrivati a 30 milioni quindi sono in un video da 30 milioni ma secondo te questo video ha 30 milioni spieghiamoci il motivo per cui questo video può avere 30 milioni di views perché l'ha fatto Will Smith per quanto dipende da Will Smith e quanto dipende dal robot secondo te allora questo particolare evento è stato un caso perché c'era questo summit in questo hotel super figo come l'ha vista infatti con quel mega patio di balcone sul mare questi avevano di fatto pagato Sofia per andare lì a fare di fatto l'esperienza che io ho avuto che posso anche contestualizzare non è che ho fatto solo questa fine 2017 inizio 2018 loro avevano comunque avuto questo inizio di ha finito il Devil Let's Man Show hanno iniziato ad avere un sacco di richieste possiamo avere il robot però avendo solo due sviluppatori in casa che giustamente dovevano anche sviluppare invece che andare in giro a portare il robot hanno chiesto in giro qui in Hong Kong c'è qualcuno che può andare in giro per il mondo a portare questo robot a fare delle robe che poi questi promettono sempre cose il robot può camminare da solo può parlare può fare logica e invece c'eri ovviamente tu che lo feceri camminare diciamo che è un po' l'illusione che comunque queste cose sono scriptate cioè qualunque cosa viene detto le cose le cose che dice Wismith è tutto parte di un script anche robot no il robot ha due funzionalità quindi può andare in modalità come dire full auto che quindi poi ha una specie di chatbot oggettivamente lui parla e ha una serie di regole in funzione di qualche topic che cerca di capire poi sì a volte dura soprattutto se non c'è niente di contestuale tipo dove sei stata ieri come ti trovi qui in Norvegia quelle cose lei non sa di essere in Norvegia non ha la minima idea di dove cioè di che ore sono cioè è ancora però preparare dell'oroscopo e va benissimo cioè preparare due o venti minuti con l'oroscopo dicendo ah tu sei cancro cioè c'è una serie di script dentro che di fatto possono fare una buona impressione poi sul palco inoltre sul palco la si possono mostrare anche qualche altro questo è Will Smith è così è la prova che sì veramente ero lì su quel terrazzo e avevo una barba incredibile questo è in Bangladesh questa è stata tipo la mia seconda esperienza mi hanno sì sono andato tipo a fare il training martedì martedì dopo mi hanno mandato in Bangladesh per sto robot mi hanno scaricato qua tipo il primo ministro dell'ICT del Bangladesh che gli faceva domande a questo robot e io ero lì che non sapevo benissimo come rispondere però in qualche modo me la sono cavata perché sì ovviamente non sapevo proprio tutta la storia e loro chiaramente pensano che questa Sofia sia un mondo di conoscenza di saggezza anche perché hai rischiato di creare un incidente diplomatico internazionale così quasi penso che qualcuno si sia accorto cioè di quelli che poi pagano che sanno le cose però per lo show per il palco di solito la gente comunque si lascia un po' non dico il fine occhiare ma insomma si lascia si lascia condizionare diciamo così insomma o trasportare chiamiamolo così la ispirazione ai bambini nuove generazioni di approcciarsi a questo mondo della robotica quindi tanti portano giovani bambini io li incoraggio sempre però tocca insomma cioè questo qui abbiamo cercato di farle suonare la chitarra questo è a Lisbona questo deve essere la Altis Arena che dove fanno come si chiama il Web Summit mi pare ma gli avete fatto suonare il Fado oppure un pezzo degli Oasis questo no gli abbiamo fatto questa era una scena dove praticamente lei rompeva un accordo quindi tutto questo era una cosa commerciale in cui ho fatto uno spot con Cristiano Ronaldo che quindi io mi sono anche fatto questa mezz'ora tra Sofia e Ronaldo che si parlavano io che facevo e scrivevo e sì poi gli hanno portato in questa stanza per fare più video col fumo con delle cose che non so se poi abbiano settimamente fatto però tante le cose che volevano fare erano sì tipo fare suonare la chitarra e tipo ci ha messo 20 minuti a scriptare solamente cosa doveva fare per tenerla in piedi quindi insomma non è ancora molto intelligente super intelligente qui si è parlata con questo è un a Oslin in Norvegia parlando con Pepper che è un altro diciamo suo collega qui siamo a Sydney qua potete vedere questo è il ponte è proprio l'harbor qui adesso non si vede una dietro adesso c'è l'opera un building incredibile di un'azienda lì australiana di un'assicurazione per il quale si sono andate a parlare ha fatto una specie di speech un po' di menate come al solito e questo è questo è Ben Gertzel non so se l'avete mai sentito nominare è diciamo uno dei due personaggi dietro a Sofia che è non so se qualcuno guarda Silicon Valley ma c'è una caricatura di Sofia e di Ben Gertzel che è il suo in qualche modo creepy owner che insomma comunque non è così cioè in realtà Ben è un personaggio un po' eccentrico però insomma con Sofia insomma ci vado d'accordo questo sono io quando faccio le operazioni perché questi robot sì sono diciamo un po' un accrocchio di motori di non so se avete mai sentito parlare di ROS Robot Operating System praticamente quello che gira su Sofia è ROS con una serie di motori che sono di attuatori che vengono triggerati dalle varie espressioni facciali che lei fa oppure movimenti che possono essere scriptati e poi c'è vabbè tutto il discorso della chat ma quello è solo software dal punto di vista hardware questi sono sì motori che poi ovviamente si staccano si rompono un giorno mi sono dovuto smontare tutto un braccio perché c'era un cavo pizzicato non andava per niente quindi insomma mi sono fatto anche dei momenti di panico di arriva sul palco e si stacca la spina oppure sì non parte non va più si incricca c'è anche forse una immagine questa è a Ginevra alle Nazioni Unite abbiamo fatto qui c'erano anche lì cinque il primo ministro di qualcosa e poi un po' di momenti anche what the fuck tipo questo qua a sinistra è a Davos è iniziato proprio a glicciare il motore quindi aveva queste espressioni facciali da sì tipo alien o qualcosa del genere e questa era una foto che non ho ben capito qual è la significata di questa foto ma mi hanno chiesto di fare una faccia di paura e questa è quella che mi ha fatto ma tu quanti mesi hai girato con Sofia alla fine? beh Sofia è stata più o meno di 2018 2018 è stato l'anno diciamo più più fruttoso ma quando tu dicevi anche nell'abstract come viaggiare com'è viaggiare con un robot di valigia perché hai avuto degli aneddoti anche del tipo tegane e robe così sì 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 beh cioè perché allora il corpo fisicamente viaggia in una valigia in una samson è gigante la butti dentro e dici vabbè speriamo che arrivi e invece la testa che è la parte più delicata rimane in qualche modo come bagaglia a mano quindi io vado in giro con una testa dentro la valigia e poi la passi nel nel lo scambio dell'aeroporto e questi vedono oh c'è qualcuno non è che uno non batte il ciglio dice boh ci sarà dell'elettronica poi vabbè aprimela questi guardano poi se portate sanno che arrivi per esempio quelli in Bangladesh è stato il momento più bello di tutti perché sono arrivato e ho detto va bene adesso vuoi fare il custom vieni qua porta la valigia con il robot tutti i formali c'è il capo della polizia ok adesso puoi aprire ok tutto a posto sì tutto a posto ok possiamo fare un selfie adesso e ci sono portati c'erano 50 di quelli che lavoravano lì e tutti qua a farsi la sera ma perché Bangladesh era stato anticipato dal fatto che era il primo ministro eccetera sì 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 avevano parlato come se fosse l'avevano presentata come se fosse praticamente viva che aveva i suoi pensieri quindi avevano fatto una specie di controllo farlocco che comunque sapevano già che cosa c'era dentro e poi hanno chiesto i selfie sì e poi all'uscita ancora meglio perché sono andata al bancone poi tra l'arrivo la gente l'aeroporto probabilmente si conoscono tutti quindi quella arriva con Sofia vieni qua ti faccio il check-in ah però ti faccio il check-in ti metto nella non so business quello che vuoi però mi devi fare fare una selfie con Sofia vabbè ok e poi anche tipo andando dentro c'è il capo della security dai vieni qua portami nel mio ufficio quindi c'è un po' è una serie c'è una serie super weird e comunque tu devi essere secondare perché fa parte un po' del gioco beh insomma teoricamente non sarebbe sì però insomma fai una po' questi livelli non sarebbe proprio diciamo la politica della tienda a mostrare il robot smontato cioè non vogliono in qualche modo non volevano all'epoca rompere questa magia cioè mi sottiere per sempre vedersi tutta intera perché è un personaggio perché più sì è come uno stato simbolo perché è lei allora Giovanni abbiamo ancora un minuto se hai delle considerazioni finali da fare giusto così per chiudere però comunque è stato godibilissimo direi vi faccio vedere un'ultima cosa per così giusto per farvi vedere anche un po' di opportunità e cose che si possono fare questo è un hack che ho fatto per farla muovere le mani questo è un leap motion in basso a sinistra che fa il tracking della mano e quindi poi dopo in base alla posizione della mano lei muove la mano non è questa non è questa non è questa non è questa è questa è questa è una cosa un po' impresso eppure diciamo ho utilizzato sempre questo ho chiuso quello c ho utilizzato questo sistema per farla muovere la testa perché fare col mouse è un po' difficile e quindi una delle delle invenzioni che mi sono tirato fuori se riesco a andare avanti non riesco a fare la più piccola comunque lì vedete c'è lo stesso leap motion e con la mano possa interagere quindi questo è uno dei diciamo forse problemi più emergenti sulla robotica come creare interfaccia per andare per operare questi robot ammesso che non sappiano operare da soli quindi come faccio a fare il puppeteering come si chiama e vabbè quindi siamo in chiusura io ti ringrazio moltissimo iscrivetevi è stato un piacere tu sei nel gruppo telegram anche dell'ESC quindi se qualcuno ha delle domande le rinviamo alla e quando passi in Italia fatti vivo certo e per il resto un grande grazie per aver condiviso la tua esperienza sei stato qui con noi un'oretta e un enorme in bocca al lupo per il tuo dottorato alla Hong Kong Politecnica University sì che per l'altro Università Copata non so se ve la ricordate questo novembre bene quella lì quella lì quella lì bene grazie Giovanni a presto ciao 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 e accade tutto grazie a tutti